Adesso ci volevo parlarvi di uno dei più interessanti frammenti postuli di Benjamin che porta il titolo Il capitalismo come religione. Secondo Benjamin il capitalismo non rappresenta soltanto come era stato già fatto notare per esempio da Max Weber, una secolarizzazione della fede protestante che Max Weber aveva mostrato spremitamente come il capitalismo non sia più una secolarizzazione della fede protestante dice che secondo Benjamin non si tratta della secolarizzazione di un fenomeno religioso ma il capitalismo è esso stesso un fenomeno religioso. Cioè il capitalismo è una religione, una religione che si sviluppa, dice Benjamin, in modo parassitario a partire dal cristianissimo. Secondo Benjamin il capitalismo come religione è definito da tre caratteri. Dovete prendere questa tesi di Benjamin non come una metafora, un discorso per capire qualche cosa, no, io credo che sia assolutamente da prendere la lettera, è assolutamente vero come una metafora. Allora, secondo Benjamin questa religione, che poi è la religione della modernità, è definita da tre caratteri. Primo, dice Benjamin, è una religione assolutamente cultuale, cioè la più estrema e assoluta religione cultuale che si è mai assistita. Che significa cultuale? Significa che in essa tutto ha valore solo in riferimento al complimento di un culto. Non rispetto per esempio a un dogma, a un sistema di credenze, non c'è nessun aspetto sistema di credenze, dogma, c'è solo il complimento di un culto. Quindi religione cultuale. Come tutte le regioni hanno un aspetto cultuale, però secondo Benjamin il capitalismo è essenzialmente cultuale. Non è come per esempio il cristianesimo che ha un sistema di dogma e di fede e che non c'è il culto. No, lì c'è solo il culto. Secondo punto, dice Benjamin, questo culto è permanente. Cioè è la celebrazione, vi cito, di un culto san treve e san merci, cioè un culto che non conosce nessuna interruzione. Quindi non è possibile in questa religione distinguere tra giorni di festa e giorni lavorativi. Ma adesso è ovvio che i giorni festivi fanno parte di un altro sistema cultuale e produttivo all'interno dello stesso ordine, ma come sapete? Quindi non c'è, all'interno del capitalismo, di questo culto permanente, non c'è altro che un ininterrotto giorno cultuale, cioè di lavoro, di festa che sia, non importa perché anche la festa è presa nel lavoro, trasformata in attività economica, in turismo, eccetera. Allora, quindi, è una regione cultuale, carattere permanenti di questo culto. Terzo culto, dice Benjamin, che fa una grande differenza, questo con le altre religioni, o con quello che noi almeno siamo abituati a pensare delle altre religioni, il culto capitalista non è diretto, come per esempio nel XVI, nel liberalismo, alla redenzione o all'espiazione di una colpa. Il culto capitalista è diretto alla colpa stessa. E colpa, forse sapete, in tedesco si dice che è una parola, che è Schuld, che significa colpa, ma anche debito. Ecco, quindi il culto capitalista non è diretto a esplare, a redire una colpa, no, è diretto alla colpa come tale, al debito brutta. Vi leggo la frase di Benjamin, vi riassumo questo bellissimo frammento, non ho sentito l'occasione di leggere, non vale la pena. Il capitalismo è forse l'unico caso di un culto non espiante, ma colpevolizzante, o indebitante, se lo rite, è Schulte, per il termine tipo giustificato. Una mostruosa coscienza colpevole, che non conosce l'etenzione, si trasforma in culto, non per espiare in questo la sua colpa, ma per renderla universale e per catturare alla fine Dio stesso nella colpa. Dio non è morto, ma è stato incorporato in questo destino dell'uomo, in questo destino della religione capitalista, realizza. Quindi questo terzo punto, anche importante, non è diretto a espiare, a redimere, a saltare, non promette nulla al di là, è la colpa di poi il debito, come tale, Schulte, come tale. Proprio perché non tende alla redenzione, ma tende con tutte le sue forze alla colpa debito, quindi non ha una speranza, dice Benjamin, ma ha una disperazione. Il capitalismo come religione, secondo Benjamin, non può mirare soltanto a una trasformazione del mondo, mira alla sua distruzione. Esistente, secondo Benjamin, il suo dominio nel nostro tempo è così totale e assoluto, e poi non lascia spiagli, che anche i tre grandi profeti della modernità, cioè Nietzsche, Marx e Freud, curiosamente, secondo lo sopramento di Benjamin, anch'essi sono solidari, in qualche modo, di questa religione della disperazione, di questa religione assolutamente virtuale. Vi cito questi passi. Questo passaggio del pianeta uomo attraverso la casa della disperazione, nell'assoluta solitudine del suo percorso, è l'ethos che definisce Nietzsche. Quest'uomo è il superuomo, cioè il primo uomo che comincia consapevolmente a realizzare la religione capitalista. Curiosamente, Benjamin, che adesso non ha mai avuto tante simpatie per Nietzsche, ma comunque legge Nietzsche come il superuomo di Nietzsche, come il proprio paradigma dell'uomo preso dalla religione capitalista, che realizza fino in fondo, fino all'estremo della disperazione, dal culto di capitalista. Però, secondo Benjamin, anche, curiosamente, la teoria fluidiana appartiene a questo sacerdotio, a questo culto capitalista. leggo molto rapidamente e l'assumo. Il rimosso, la rappresentazione peccaminosa, è il capitale su cui l'inferno dell'inconscio paga gli interessi. Quindi, vedete, il meccanismo dell'eus che ha messo gli anni, secondo chi c'è una repressione che passa dall'inconscio, come qualcosa, appunto, come questa colpa su cui poi il capitale paga gli interessi. E per finire, perfino Marx, il capitalismo, secondo Benjamin, in Marx, con gli interessi semplici e composti che sono funzione della colpa, si trasforma immediatamente in socialismo. Il capitalismo si trasforma immediatamente in socialismo. E quando Benjamin scriveva queste cose, il frammento non è facile datarlo, ma probabilmente risale molto indietro, in un testo anche abbastanza giovanile, forse. E insomma, aver preso, aver colto così in quegli anni il nesso tra socialismo e capitalismo, che per noi oggi di parte è scontato, non è male. Ecco, in ogni caso, per concludere, secondo Benjamin, il nesso tra capitalismo, la religione capitalista, e il cristianesimo, ricordate che è una religione autonoma in sé, ma che si sviluppa in modo parassitario a partire dal cristianesimo. E secondo Benjamin, questo nesso tra capitalismo e cristianesimo è così stretto che può scrivere, cito, la storia del cristianesimo coincide essenzialmente con quella del suo parassita, coincide essenzialmente con quella del suo parassita, il capitalismo. Perché questo è un test molto molto interessante, insomma, è il punto che svolge, in fondo qui non fa che spingere all'estremo, ma risferire, no? Capitalismo e cristianesimo sono connessi. Adesso volevo provare a svolgere, a prendere sul serio, innanzitutto, l'ipotesi divenne e provare un po' a svolgere. Lo che volevo fare oggi è provare a sviluppare questa ipotesi, a vedere di capirla, di capirla in tutti i suoi aspetti. Innanzitutto, se il capitalismo è una religione, prendiamo comunque sul serio l'ipotesi che il capitalismo sia una religione, come definirla in termini di fede. Cioè, cosa crede il capitalismo, che cosa implica rispetto a questa fede alla decisione di Nixon, ma intanto cominciamo a vedere che ha senso parlare di una fede. E vorrei partire da, secondo me, un episodio molto molto interessante e significativo. David Flusser, che era professore di storia di scienza delle religioni a Gerusalemme, c'è anche una scienza come questo strano nome, scienza delle religioni, stava lavorando da tempo sulla parola pistis, che come forse sapete è il termine greco che Gesù, l'apostolo, che sono tutti i testi del Norte, che è stato detto, significa fede, pistis è la parola greca per fede. E allora questo giorno stava lavorando, ci voleva cercare di capire ma che cos'è questa cosa che i cristiani danno a pistis e che con un altro nome troviamo anche nel giudeismo, che cos'è la fede? E' stato appunto seduto in una piazza di Atene, stava lavorando, a un certo punto alza gli occhi e poi mi stava lavorando a pistis, e viene scritto a caratteristica di Trapesates Pisteros, cioè questa parola pistis, e dice ma che cos'è questa cosa? Si avvicina, guarda bene, è una banca, Trapezates Pisteros significa in greco banca di credito. E qui flutterà l'illuminazione. Ecco, finalmente ecco che cos'è la fede, che cos'è questa pistis. La pistis è semplicemente il credito, il credito di cui noi godiamo presso Dio e il credito di cui la parola di Dio in quanto le crediamo gode presso di noi. Per questo Paolo, in una famosa definizione, se ci torneremo, può scrivere che la fede, la pistis, è sostanza di cose sperate. E' ciò che dà realtà e credito a ciò che non esiste ancora, ma in cui crediamo e abbiamo fiducia, in cui abbiamo messo in gioco il nostro credito e la nostra parola. Credito, in un nome, è soltanto il participio passato del verbo credere e ciò in cui crediamo, nel senso che ci abbiamo messo la nostra fiducia, la nostra fede. Nel momento, per esempio, in cui stabiliamo una relazione fiduciaria con qualcuno, prendendolo sotto la nostra protezione o, per esempio, prestandogli del denaro. Se prestiamo del denaro, stabiliamo una relazione di credito, di fiducia, di pistis con lui. Del resto, questa pistis paolina, evangelica, già gli studiosi avevano notato c'è un bellissimo lavoro di questo grande linguista che è uscito sempre, perché senza dubbio non si capisce la storia della nostra cultura, è un linguista, c'è un lavoro in cui lui ricostruisce questa nozione la fede, che cos'è? La riporta, secondo lui, a una delle più antiche istituzioni indoeuropee, che è la fedelità personale. La fede come un rapporto fiduciario che si instaura tra qualcuno e un altro. Dare la fede a qualcuno significa mettersi sotto la sua protezione e il Signore, d'ora in poi, avrà la fides su di lui, che è appunto un rapporto reciproco in cui ci si scambia la fiducia. Lui gli dà credito, gli do credito alla sua protezione, cito qui le parole di Benvenista, colui che detiene la fides messa in lui da un uomo, tiene quest'uomo in suo potere. Nella sua forma primitiva questa relazione implica una reciprocità. Mettere la propria fides in qualcuno procurava in cambio la sua garanzia e il suo aiuto. Era proprio un'istituzione fondamentale del mondo antico, per esempio a Roma, una città stessa si poteva dare in un fides, per esempio a Roma, una città che stava per soccobere, a un certo punto proponeva, si dava un dedizio in fides, si dava, metteva la sua fede a Roma, Roma risparmiava questa città e d'olio in poi la prendeva anzi sotto la sua proiezione. c'è tutta una categoria dei cittadini dell'impero romano che sono i cittadini deditici, che sono su loro che si sono dati in fede. Ecco, allora, se adesso questa intruzione di Fius che secondo me è molto bella, molto giusta, è vera, cioè se la Pistis non è altro che questa fides, questo credito che ci si dà e ci si scambia, allora l'ipotesi scrivendo la stretta relazione tra capitalismo e cristianesimo riesce a una conferma noteriosa. Il capitalismo è anzi in questa prospettiva una religione interamente fondata sulla fede. È una religione in cui adetti vivono sola fide, cioè si dà non credito. È soltanto di un'esima. E come secondo me il capitalismo è una religione in cui il culto si è emancipato ricordate dal mio oggetto e la colpa da ogni peccato quindi da un'impossibile attenzione così dal punto di vista della fede e della Pistis il capitalismo non ha un oggetto concreto crede soltanto nel puro fatto del credito crede proprio nella fides come tale nel puro credito cioè siccome la forma pura del credito l'abbiamo già visto è il denaro è una religione che crede solo nel denaro cioè nella pura forma del credito il credito debito e quindi è una religione in cui il culto è il denaro il cui l'unico oggetto è il denaro che significa cosa che penso che ormai tutti cominciamo a capire significa che la banca che non è altro che una macchina per fabbricare e gestire credito cosa è una banca è una macchina per fabbricare e gestire credito e questo significa che la banca nella nostra società però credo che sia un'evidenza e sto dicendo qui delle banalità la banca ha preso integralmente il posto della chiesa e governando il credito cioè la pistis manipola e gestisce la fede della nostra società quella fede quel che resta di fiducia scarsa incerta che il nostro tempo ha ancora in se stesso il prestigio della banca da punto di vista dell'ipotesi della religione capitalista è questa la banca è un tempio perché è quella che come sacerdote amministra la pista e il segreto ecco che cosa ha significato per questa religione torniamo a quello punto alla decisione di sospendere la convertibilità in oro credo semplicemente qualcosa come una chiarificazione del proprio contenuto teologico del proprio contenuto di fede forse è paragonabile per esempio alla distruzione osaica del vitello d'oro ci si è liberati da un'idea che ci potesse essere per questa fede un fondamento esterno d'oro comunque in ogni caso un fondamento un passo decisivo verso la purificazione per così dire la cristallizzazione della fede capitalista questa è la forma del penale del credito si emancipa ora da ogni ricadente esterno cancella il suo adesso idolatrico con l'oro e si afferma come tale nella sua assolutizia il credito è un essere puramente immateriale è per così dire la più perfetta parodia immaginabile di quella pistis che secondo Paolo non è anche la sostanza di cose sperate qual è la migliore definizione del credito della sostanza di cose sperate sperate non ci aspettiamo la fede con questa celebre definizione di Paolo che ho citato è sostanza l'antaparola che Paolo usa è un termine tecnico dell'ontologia aristotelica usilia substanzia la fede l'essere la sostanza ciò che dà essere alle cose che ancora non sono sperate quel che Paolo intende è che colui che ha fede che ha messo la sua pistis in Cristo prende la parola di Cristo come se fosse una substanza un usino un essere come se ci fosse già come se ecco però è proprio questo come se che la religione capitalista cancella il denaro non è come un essere è ora immediatamente in se stesso la sola sostanza il carattere distruttivo della religione capitalista di cui bene mi parlava appare qui in piena evidenza non c'è più una cosa siderata credito la fede e la sostanza questa cosa sperata non c'è più è stata ammientata e deve esserlo perché il denaro è l'essenza stessa della cosa la sua usilia nel senso ontologico naturalmente il giudice economico in questo modo gli è tolto di mezzo l'ultimo ostacolo alla creazione di un mercato della moneta cioè la trasformazione integrale del denaro in merce che come sapete caratterizza di un mercato